Michele, festeggiamo questi dieci anni di Sanremo con le tue opere che chiaramente sono un segnale bello non solo per te ma per tutti noi. Sì, a noi ci fa piacere che a un mezzo di dieci anni veniamo contattati per realizzare i premi speciali del Festival. Sono tante le opere che abbiamo realizzato in tutti questi anni, premiando il GOTA della musica nazionale e internazionale. Quest'anno siamo veramente felici che arrivano queste nuove commissioni, ci riconfermono i due premi della critica, Damia Martini, due premi molto importanti che vengono consegnati dalla sala stampa dell'Ariston e sono dei premi che vengono consegnati sia per la categoria sezione campioni che per la categoria nuove proposte. Abbiamo realizzato questa scultura che raffigura una chiave di violino con il leone, questo per simboleggiare sia con la chiave la musica ma con il leone, il simbolo della città di Sanremo. Oltre a questi, quest'anno una novità, sono i due premi che ci hanno commissionato per la sala stampa Lucio Dalla. Anche questi sono dei premi che consegna la stampa e questo per noi è stato una ciliegina un po' sulla torta nel senso che non solo nell'arte riusciamo a esprimere quello che è la nostra arte con i nostri premi ma a ricordare due grandi personaggi come Lucio Dalla e Mia Martini, veramente questo mi emoziona. Poi specie Mia Martini, un orofo calabrese che realizza i premi per Sanremo e poter ricordare e mantenere vivo i ricordi di questa grande artista calabrese, veramente per me mi emoziona tutto questo. Cosa è cambiato nei premi di quest'anno? Ma ci sono diversi premi che sono cambiati, oltre a questi premi che abbiamo realizzato c'è la classica palma che realizziamo ogni anno, questa è una palma che viene consegnata, è il premio numero uno città di Sanremo, è un premio che viene consegnata a tutti coloro che nel tempo hanno fatto conoscere la musica italiana nel mondo. Basti pensare che negli anni passati sono stati premiati personaggi come Tony Reni, Salvano, Pippo Baudo, Rita Pavone, e anche Toto Cotugno, quest'anno andrà un grande della musica che è Fausto Leali. Non solo questo ma anche i premi dietro le quinte che riconoscono coloro che lavorano dietro le quinte e anche i premi AFI. AFI è l'associazione fornografici italiani che nasce insieme al festival della canzone italiana, anzi la canzone italiana festeggia 70 anni, l'AFI ne festeggia 71 e anche loro che hanno l'etichetta degli artisti. Ecco per questa grande associazione abbiamo creato quattro premi che andranno a quattro big, che parteciperanno al festival e che però i nomi saranno resi durante la settimana. Una novità di quest'anno invece è la chiave d'argento per Casa Sanremo. Casa Sanremo è l'hospitality del festival e quest'anno hanno deciso di realizzare questa chiave per poterla consegnare a un simbolo del festival della canzone italiana. Anche questo il nome ancora non è stato reso, lo renderanno noto nei prossimi giorni, ma questo è un premio che verrà consegnato proprio dal padron di Casa Sanremo, Vincenzo Russo Lillo e dal direttore, dal presidente RAI Pubblicità Marano. Che cosa rappresenta per te anche questa edizione di Sanremo? Al di là del lavoro, dell'impegno e della creatività della tua arte? Ma Sanremo è un grande festival, è un grande festival che a me ormai sono tanti anni, lo vivo da 13 anni, da 10 che realizzo i premi e ovviamente è un grande festival che ti dà la possibilità di poter esprimere quella che è la tua arte, ma ovviamente dietro alla mia arte c'è sempre la mia città, la mia regione, il mio territorio e il festival mi fa piacere anche quest'anno, non solamente poterlo vivere sotto un profilo dell'arte, ma anche sotto un profilo del sociale. Infatti sarò di nuovo anche quest'anno l'orafo ufficiale del concorso Musica contro le mafri, che è un grande contest che viene portato a Sanremo, dove ogni anno è molto partecipato, ma un'altra cosa importante che porterò per il quarto anno consecutivo è il convegno UNICEF, di cui come ambasciatore promuovo da quattro anni questo convegno e ringrazio veramente l'organizzazione del festival che mi dà la possibilità di poter anche io poter portare questo messaggio a sostegno dei bambini che hanno veramente tanto bisogno.